Siamo quasi alla regia del campionato e riusciamo a presentare Manolo Gabbiadini è tanto tempo che ne parliamo, mi avete chiesto tante volte come mai ero disposto ad aspettare così tanto e il motivo è perché tutti noi siamo convinti che Manolo sia una scelta giusta per il Bologna e quindi finalmente siamo riusciti a tesserarlo e oggi è qui con voi a vostra disposizione per le vostre domande No, molto buono, molto buono, a parte che conoscevo già certi giocatori poi Garic che era in stanza con me i primi 4 mesi che ho fatto in Serie A tre anni fa quindi lo conosco molto bene poi Cherubin, Guarente e Diamanti che l'ho appena conosciuto però anche gli altri sono bravi, sono molto buoni quindi si prevede un ottimo campionato sarà difficile perché è un campionato duro quest'anno come ogni anno diciamo però ci sono buone aspettative Ah beh, la nazionale è stata una chiamata inaspettata però straordinaria perché vestire la maglia azzurra è una cosa stupenda e ancora di più perché era inaspettata prima, seconda punta per me sono cose giornalistiche queste che poi in campo cambia dipende da con chi giochi, da come ti trovi quindi bene o male ci si può adattare in tutti i ruoli quindi è solo il campo a dirlo io quello che volevo era fare una nuova esperienza perché a Bergamo ero chiuso diciamo e poi mi sentivo troppo a casa e questo fatto non mi piaceva a me piace essere via essere totalmente concentrato sul calcio e quindi è per questo che sono voluto venire qua a dire la verità quest'estate ce n'erano altre di squadre interessate però abbiamo sentito Bologna ho detto voglio andare assolutamente lì che mi piacciono i giocatori che ci sono qua e anche il mister qualsiasi persona che l'ha conosciuto mi ha parlato molto bene quindi soprattutto questo mi ha portato a venire qua a me piace tanto copiare quando guardo le partite le partite degli altri giocatori copio tanto perché mi piace guardare soprattutto Milito, i suoi movimenti il suo grande lavoro che fa e devo dire che lui è uno dei miei giocatori preferiti alle squadre emiliane mi hanno sempre portato fortuna tre anni fa come ho detto prima ho esordito in Serie A a Parma due anni fa ho fatto il primo gol al Modena in Serie B e l'anno scorso il primo gol al Bologna spero di farne molti altri adesso che indosso questa maglia grazie a tutti grazie a tutti